Mercoledì 20 aprile si è tenuta la seconda edizione del Runeppi School, un progetto scolastico che è stato organizzato in partnership con il liceo scientifico dei Ruggeri di Massafra, Pianeta Sport che è un'azienda leader nella vendita di prodotti running, l'azienda Brooks Running Italia e la SD Team Pianeta Sport Massafra di cui sono presidente. In occasione di questa seconda edizione il format ha avuto l'entusiasmo delle prime classi che per la prima volta si sono avvicinate a questo tipo di evento, è un evento teaser della Color Run che si terrà a Bari il 15 maggio e in questa occasione abbiamo voluto far conoscere ragazzi le modalità di un'attività ludico-motoria che possa essere anche il veicolo di valori importanti come quello dell'aggregazione, della solidarietà, dello sport vissuto come benessere e come momento anche di divertimento per stare insieme agli altri. Per il tracciato del circuito cittadino una volta tanto i ragazzi hanno dimenticato i loro cellulari, hanno messo da parte le comunicazioni web e si sono finalmente dedicati l'uno all'altro. Tanti sono state le strategie utilizzate per coinvolgere i ragazzi che nonostante le tante prove di valutazione tenute all'interno della scuola e le gite che hanno fortemente inciso nella presenza siamo riusciti comunque a garantire 300 partecipanti. Per noi è un ottimo risultato, significa che la formula funziona, significa che c'è voglia di fare sport sano, di divertirsi e di voler condividere con gli altri dei momenti divertenti. La piazza è animata da tanto colore, palloncini, tattoo e momenti di balli e di animazione che consentono ai ragazzi di socializzare. Ci auguriamo che questo progetto possa essere esteso anche agli altri istituti superiori di Massafra poiché la formula prevede anche un ritorno economico per la scuola. La quota di iscrizione viene in parte devoluta a un progetto didattico che consentirà in questo caso al liceo De Ruggeri di poter fruire di attrezzature sportive. Grazie